bella a tutti ragazzi benvenuti in questa nuova live abbiamo presentato prima in napoli su fifa mobile e adesso ragazzi presentiamo in napoli su e football 2023 mobile cominciamo con il numero con il numero che numero aveva nozuda con il numero 64 gika nozuda con il numero 44 ivan sekigawa con il numero 63 marco vallecchios con il numero 97 stefano dimitri con il numero 60 roman tulsi rovod con il numero 5 one jesus con il numero 49 nardon negame con il numero 20 piotre zelischi con il numero 9 victor osimen con il numero 23 manolo gabbiadini con il numero 27 fabio quagliarella con il numero 21 vlad kirikesh con il numero 91 duvan zapata con il numero 22 giovanni di lorenzo con il numero 99 andre frank zamanghissa con il numero 68 stanislav lobotka con il numero 14 deris mertens con il numero 77 kivicak varakskelia con il numero 95 pierluigi colligui gollini scusate con il numero 33 raul albiol con il numero 18 giovanni simeone con il numero 47 eddy giovanni con il numero 32 amato ciceretti con il numero 38 josip radosevic con il numero 77 omar el cadduri con il numero 19 bartos berensischi con il numero 33 luigi sepe con il numero 13 amir racmani con il numero 3 kim minje con il numero 8 giorginio con il numero 21 matteo politano con il numero 88 gonia killer con il numero 17 mare kamsik con il numero 52 valerio boffelli con il numero 33 simone verdi con il numero 99 arkadish milic con il numero 94 roberto insigne con il numero 42 camillo ciano con il numero 37 andrea petagna con il numero 69 giuseppe ambrosino con il numero 23 alessio zerbin con il numero 28 nikita contini con il numero 9 gonzale guain con il numero 70 gianluca gaetano con il numero 16 uberte da wii didasiak con il numero 12 davide marfella con il numero 33 adam munas con il numero 45 roberto inglese con il numero 41 raffaele maiello con il numero 88 alberto grassi con il numero 90 michael fororuncio con il numero 31 karim zedadka con il numero 62 lorenzo tonelli con il numero 96 sebastiano luperto con il numero 59 alessandro zanoli con il numero 23 elsei disai con il numero 25 pepe reina e infine con il numero 53 ivanno moldovano questo ragazzi è napoli di e football 2023 mobile ora ragazzi mi dovete dare due minuti che preparo l'ultima presentazione su dls 2023 ci vediamo fra poco ciao 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 ciao